Il quadro del Tiepolo sarà il marchio di questa campagna elettorale. Mostra qualcosa che si intravede, come il futuro, con le sue occasioni e con le sue incertezze, con le sue illusioni. E mostra persone che guardano con interesse e curiosità, ognuna fatta a moto suo, ognuna con la sua storia, ma tutte di spalle e pochi che guardano indietro. Guardano l'orizzonte, il mare, guardano un casotto, guardano gli altri. Nel mondo nuovo ognuno vede quello che vuole guardare.